Buongiorno a tutti, la Cadeo G di oggi ci porta indietro di 85 anni al 24 agosto 1939 e al messaggio del Papa Eugenio Pacelli, Pio XII, che implorava la pace alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 19 dal Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo e collegato con la stazione Radio Vaticana leggeva un messaggio per implorare la pace. Il messaggio cominciava così. Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana. In quei giorni Hitler aveva già deciso l'invasione della Polonia e il giorno precedente la firma del patto. Molotov-Ribbentrop aveva sconcertato la diplomazia di tutti i paesi dove l'oscura e misteriosa Unione Sovietica aveva stretto un patto di non-aggressione con la Germania nazista e in un protocollo stabiliva le rispettive zone di influenza in caso di spartizione del vasto territorio polacco, un caso di guerra. Ed era questa la guerra, l'intenzione di Hitler che intendeva cancellare quella situazione creatasi a Versailles con la divisione del territorio tedesco con il corridoio di Danzica. Per settimane Francia e Inghilterra avevano trattato con Stalin, ma la loro differenza verso il regime comunista portò il dittatore russo all'accordo con Hitler e gettò il mondo nella più grande guerra della storia.